Ricordo i consiglieri che loro scelgono la data del Consiglio, ma evidentemente preferiscono fare campagna elettorale. Il Sindaco va su tutte le furie con la sua maggioranza che si è fatta sorprendere in aula senza numeri, dopo che il centrodestra, approfittando dei banchi vuoti, ha abbandonato l'aula, facendo venir meno il numero legale. In una seduta fondamentale, l'approvazione del rendiconto di gestione 2014. Tutte a rapporto nella stanza di De Caro, mentre il centrodestra in una conferenza stampa ha bollato, una maggioranza irresponsabile, più volte salvata dalla minoranza, che però non può continuare ad essere nella stampella. Bocciato il documento contabile, con un disavanzo è stato detto di 30 milioni, 12 milioni di debiti fuori bilancio, 160 di crediti di dubbia e esigibilità, 48 mutui accesi, senza però interventi, ma su cui continuiamo a pagare interessi passivi, aumento delle tasse, ma senza nuovi servizi per i cittadini. Accuse che De Caro rimanda al mittente. Ma quali debiti? È un disavanzo tecnico. Ci siamo adeguati a quanto chiesto dal Governo con il decreto sull'armonizzazione contabile. Un'operazione pulizia in cui abbiamo tenuto conto dei residui attivi, uno addirittura del 68, crediti che vantiamo dagli anni 70 ormai non più esigibili, 12 li pagheremo con l'avanzo di amministrazione, gli altri 18 smalmati in 30 anni, con un costo di soli 600 mila euro l'anno. Abbiamo rispettato il patto di solidarietà, compensato i tagli dello Stato con la lotta all'evasione e il bilancio del Comune è solido. Quanto solida sarà la sua maggioranza, invece, lo si vedrà nella seconda seduta. Grazie a tutti.